Sono Nicoletta Murru, docente del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzione Animale dell'Università degli Studi di Napoli, Ferenico II, con i colleghi Serena Calabro, Giuseppe Borzacchiello e Santeroperto, da un anno e mezzo continuiamo la redazione della rivista Un Mondo di Bufale. Abbiamo ospitato oltre 60 contributi di docenti del Dipartimento dell'Ateneo ed Esterni e questa rubrica nasce con l'intento di fornire tutti gli strumenti per orientarsi nel mondo delle fake news e delle notizie che non sono verificate. Un Mondo di Bufale svolge quindi un'attività di divulgazione scientifica in forma accessibile e di facile comprensione. Per questo motivo vi aspettiamo tutti a futuro remoto per conoscerci e per approfondire. Grazie a tutti.